Benvenuti all'ascolto del notiziario di Radio Velluto in studio Alessandro Ranieri. Il titolare 57enne di un'officina meccanica a Monteraldo di Trecastelli è rimasto gravemente infortunato mentre stava lavorando sotto la cabina di un mezzo pesante. Secondo una prima ricostruzione di vigili del fuoco e carabinieri intervenuti sul posto assieme ai sanitari del 118, le gambe dell'uomo sarebbero rimaste schiacciate sotto le ruote del camion causando gli traumi e fratture. L'artigiano è stato caricato su un'ambulanza per il trasferimento fino a un terreno nelle vicinanze dove è atterrato l'elicottero Icaro per il trasporto d'urgenza agli ospedali riuniti di Ancona per gli accertamenti e le cure del caso. L'uomo non avrebbe subito lesione alla spina dorsale e non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso le verifiche per ricostruire la dinamica dell'incidente. A dare l'allarme era stato un cliente dell'officina. I vigili del fuoco sono intervenuti sabato mattina alle 9.30 a Senigallia in via strada del cavallo per un incendio. Per cause in fase di accertamento ad andare a fuoco è stato il garage interrato adiacente ad una villa. All'interno c'erano due auto e numerose macchine agricole. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme confinandole al solo garage. Hanno poi estratto le carcasse dei mezzi per il completo spegnimento delle fiamme e messo in sicurezza il garage. A parte gli ingenti danni, nessuno è rimasto ferito. Rimettete al centro dell'agenda politica il terremoto del centro Italia che ha prodotto il 62% dei danni delle Marche. Si tratta di un altro gravissimo errore del governo dopo quello sul bando periferie. E l'appello rivolto al governo è ai parlamentari lanciato da Augusto Curti, presidente del Consiglio delle Autonomie Locali e sindaco di Force e Maurizio Manzalardi, presidente di Anci Marche. I vigili del fuoco sono intervenuti. ieri mattina ad Arcevia, in via Mura, per recuperare una borsa caduta in un dirupo. Il proprietario aveva provato senza successo a recuperare la borsa contenente documenti ed effetti personali perché la zona dove era caduta era inaccessibile. La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta sul posto utilizzando tecniche speleoalpinistiche e si è calata per circa 8 metri per recuperare la borsa e restituirla al proprietario. La nuova risonanza magnetica, pronta a fine ottobre, l'esposto del comitato non ci compete. È deciso a difendere l'operato della regione Marche sulla vicenda che ha interessato la nuova risonanza magnetica, il presidente della Commissione Regionale Sanità Fabrizio Volpini. La nuova risonanza, acquistata quattro anni fa dopo una lunga odissea, sta per essere inaugurata. A fine ottobre il nuovo macchinario entrerà in funzione a pieno regime, mettendo fine a polemiche e proteste per i ritardi accumulati in questi anni. C'è anche Casa Marche, uno spazio di 360 metri quadrati ispirati alla regione e alle sue produzioni all'interno di HB Italian Town, il parco tematico dedicato al turismo e alle eccellenze italiane, sorto a Changsha, capitale della regione di Wuhan, in Cina. Un borgo italiano in scala reale ricreato con tanto di ristoranti, alberghi, cinema, teatri, negozi e riproduzioni di edifici storici. Lo sport, grazie a un gol di Giobellina, la Vigor Senigallia fa la sua prima partita della stagione giocata davanti al proprio pubblico. Villa Musone esce sconfitto dal Bianchelli per 1-0. Vittoria con goleada per l'Olimpia Marzocca che ha battuto 5-0 il Valfoglia con una tripletta di Moschini. Il Barbara è stato invece sconfitto 2-1 da Villa San Martino. Era l'ultima notizia, da Alessandro Ranieri buon proseguimento d'ascolto.